Quante cose belle riusciamo a fare col digitale? Io alcuni di voi sicuramente li seguo e voi probabilmente seguite me vedo veramente della creatività che esce da voi che fino a ieri non era nemmeno immaginabile cioè una volta pensate chi di voi magari ha mai fatto un balletto, una battuta online, una fotografia creativa fino a poco tempo fa tutte queste cose non si potevano fare oggi potete esprimervi, è bellissimo ma pensate che lo potete fare come sapete gratuitamente non dovete pagare, lo so che per voi è normale però non era così una volta, non si poteva fare adesso si può fare e sapete perché lo potete fare? lo potete fare perché voi avete un valore, una moneta straordinaria che è oro, è il nuovo oro siete voi, i vostri dati, quello che siete, quello che pensate esistono applicazioni fatte prevalentemente per sapere chi siete e addirittura influenzarvi rispetto a quello che vuole magari uno stato diversamente democratico pensateci pagate con quella moneta uno può pensare ma chi se ne frega per l'indirizzo, un nome, una foto, cosa vuoi che sia no, è di più, c'è di più c'è di più perché loro sanno tutto di voi ma tutto, aspetta più di quello che pensate che sappiano tutto perché il nostro telefono ha un microfono ha una telecamera ha un sensore GPS che sa dove, esattamente dove siamo e pensate un'altra cosa ogni cosa che noi pubblichiamo rimarrà lì per sempre allora, voi dite, vabbè, ci hanno fatto degli esempi però insomma sono un po' lontani no, magari vedo che siete tutti molto giovani un po' lontani da noi ma pensate a quando eravate piccolini vi è già capitato di vedere le foto o i video di quando eravate più piccoli? avete un po' vergogna? dite, ma come ero stupidino guarda là che mi mettevo le dita nel naso, nelle orecchie ecco, così, allo stesso modo un domani potreste vergognarvi di alcune cose che sono naturali è giusto che le si facciano le abbiamo fatte tutti però oggi sono in mano ad altri sono in mano a big che peraltro non sono manco sotto la nostra giurisdizione arrivano da altri paesi paesi lontani e quindi questa cosa è da sapere cioè mentre lo fate continuate a farlo ma mentre lo fate dovete saperlo così sapete poi scegliere peraltro sembra quasi che voglia sgridare voi ci sono anche i genitori e qua ci sono sicuramente dei genitori e vedete, i genitori sono quelli che oggi hanno la responsabilità vostra e anche quindi di farvi usare nel modo giusto questi mezzi ma dai, diciamocelo ma quanto ne sanno i genitori? di solito ne sanno poco però non è colpa loro e dopo tutto sono nati senza questo mondo e quindi non gliel'ha insegnato nessuno ci sono tante cose che sono state insegnate dai nonni che hanno un grande valore ma purtroppo, porca miseria, questa cosa non arriva non è stata tramandata e allora la scuola quanto digitale c'è a scuola dal punto di vista della cultura? zero, anzi è un vietiamo tutto anche i genitori a volte dicono vietiamo tutto allora andate a casa dai vostri genitori e ditegli che io ho detto lo dico anche in altre occasioni che come dire se vogliono veramente che voi gli diciate tutto spieghiate quello che fate siate trasparenti con loro loro non devono vietarvi l'uso del digitale vi devono aiutare a comprenderlo e se non sono in grado di aiutarvi a comprenderlo c'è chi lo fa facciamo video dappertutto io a striscia ogni settimana più di una volta racconto queste cose non sempre legate a questi temi cioè nel senso ragazzi privacy e sicurezza però spesso nei miei social non faccio le foto nell'ombrellone a Dubai non vendo nulla ogni giorno però magari vi metto a disposizione qualcuna di queste cose aspetta che intanto guardo guardo qua mi sono messo coi tempi perché no no ce l'abbiamo ancora ce l'abbiamo ancora ce l'abbiamo eh no bisogna controllare no bisogna guardare e quindi un altro messaggio che dovete portare da parte mia ai vostri genitori facciamo questo patto ok voi voi gli dite gli raccontate i vostri dubbi gli raccontate no eventuali pericoli eventuali cose a cui andate incontro cose che non vi fanno sentire bene e loro non vi vietano non vi vietano l'uso del digitale perché c'è un'altra cosa che spesso i genitori sanno fare ed è spiare che è diverso da controllare anche i genitori quando si parla di privacy si parla anche di questo cioè voi lo sapete che non è legale per un genitore spiare al fine di spiare un figlio cioè non bisogna spiarlo bisogna al massimo controllarlo nel caso in cui ci fossero dei dubbi ci fossero dei rischi potenziali non è che li possono spiare e poi non è nemmeno giusto per cui ditegli dobbiamo spiarvi ma pensate che no molti di voi hanno giustamente no non hanno voglia che i genitori si facciano infatti vostri no ma è normale ecco la maggior parte dei social network sa cose di noi che i genitori se le sognano no e peraltro anche quando non siamo noi a regalare ai social dico social perché comunque sapete che c'è l'accento quello della social che in Inghilterra dicono così social è molto è molto un po' così che può sembrare esattamente molto british no è molto british e dovete loro hanno davvero anche quando non si portano via a pezzi vostri dovete sapere che prima o poi nel mondo informatico purtroppo i sistemi in un modo o nell'altro vengono bucati quindi anche se non rubano i dati dal vostro cellulare magari li rubano a quelli là a cui li avete lasciati per iscrivervi per per pubblicare una foto per pubblicare un video e tutto questo dite e vabbè ho capito è una volta che ci hanno questi dati che ci devono fare e oggi peraltro con l'intelligenza artificiale dove è un secondo creare un video in cui voi fate cose che non sono vere e non è possibile e non lo sarà distinguere la verità da un falso video sarà quasi oggi si riesce un po' a capire avete presente ormai i video generati in intelligenza artificiale hanno dei difetti le immagini si riconoscono però però tra un po' sarà quasi impossibile e non ci saranno bollini che tengano sì i bollini aiuteranno ma alla fine poi dopo con l'open source uno installa e fa un po' quello che gli pare ci siamo quasi e quello che succede nel fare tutto questo è che poi magari come abbiamo visto dagli esempi c'è chi vi bulla chi ci bulla chi ci fa soffrire ci fa sentire a disagio e quando questo accade bisogna avere un referente bisogna sapere da chi andare e io vi dico che sicuramente i miei contatti sono 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 pubblici potete usarli nei vari social c'è la polizia postale che è straordinaria io collaboro con loro sono bravissimi sanno occuparsi di ragazzi sanno come si fa quindi non è che chiamate e loro vi dicono se mi dica no appena sentono un ragazzo sanno cosa fare se avete paura che un genitore venga a sapere della vostra di quello che sta succedendo loro sapranno gestire la cosa nel modo migliore quindi fatelo se se vi fidate di me mandatemi segnalazioni non mandatemi foto non mandatemi nulla del genere mandatemi solamente segnalazioni che poi ci penso io eventualmente a girare se non vi sentite di farlo direttamente però è molto importante è molto importante questo ecco per cui amici che dirvi il tempo è finito grazie